E' arrivato sotto una pioggia abbattente il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, atteso da una folla di sostenitori del Movimento 5 Stelle e dei suoi rappresentanti abruzzesi. L'occasione era il Five Festival a Villa Sabucchi, tre giorni, dedicati all'incontro con i cittadini per affrontare questioni calde, come il tanto atteso referendum costituzionale, nel quale grillini optano per un indiscutibile no. Il referendum è il prossimo nostro obiettivo. I cittadini italiani ci pagano per occuparci dei loro problemi e in questo momento storico per riuscire ad occuparci dei loro problemi dobbiamo votare no. Votare no significa votare il cambiamento, significa permettere a una maggioranza eletta in futuro di poter abolire Equitalia, di poter fare un reddito di cittadinanza, una serie di leggi anticorruzione. Se dovesse vincere il sì non ci sarebbe più una maggioranza votata dal popolo che possa modificare le leggi vergogna che hanno fatto Renzi e Berlusconi negli ultimi 15 anni. Di Maio descrive poi il quadro di governo attuale criticando aspramente il premier Renzi nella partita della governanza europea, una sudditanza che spesso finisce per relegare l'Italia, nazione che poca voce ha nei capitoli decisionali. Se non ti guadagni il rispetto ai tavoli esteri è chiaro che poi i paesi all'estero o ti scavalcano oppure ti aiutano perché non hai più il consenso del popolo. Matteo Renzi non ha più il consenso degli italiani e non ha un'autorevolezza a livello internazionale. Quindi o chiede aiuto agli altri stati per restare a mantenere lo status quo oppure si vede scavalcare più volte come è accaduto oggi nel vertice UE in cui abbiamo visto ancora una volta Hollande e Merkel coalizzarsi con le loro assurde teorie economiche che ancora una volta danneggeranno l'Italia. Infine la situazione interna al movimento. Il sindaco di Roma Valentina Raggi, gli assessori, l'attesa delle nuove nomi nei silenzi iniziali e la pace fatta con Beppe Grillo che dice di dare fiducia a chi ha saputo ottenere più di 700.000 voti dai romani. È tornata la pace al Movimento 5 Stelle? Io penso che il Movimento 5 Stelle sia sempre stato in pace. L'unica cosa che mi va di sottolineare è che gli italiani ci pagano lo stipendio per occuparsi dei loro problemi. Poi nel tempo libero affronteremo anche le questioni del Movimento 5 Stelle.